Ci troviamo presso la libreria Mondadori di Augusta in compagnia di Massimiliano Scuriatti, curatore di un volume che raccoglie il teatro di Pippo Fava. Intitolato A che serve essere vivi, in realtà si tratta soltanto della prima di tre parti in cui le opere del noto giornalista siciliano ucciso dalla mafia nel gennaio del 1984 vengono appunto raccolte e analizzate da un punto di vista critico proprio da Massimiliano Scuriatti. Come nasce il progetto che porta a questa pubblicazione? Nasce con l'idea di voler far conoscere alle nuove generazioni o ricordare un po' a chi lo ha dimenticato il fatto che Giuseppe Fava è stato oltre che un grande giornalista come tu hai anticipato è stato un grande scrittore, un grande drammaturgo e l'idea iniziale era proprio quella di riequilibrare questa figura. La morte avvenuta a seguito del suo giornalismo di inchiesta a Catania ha un po' in qualche modo oscurato questo aspetto. L'intento è proprio appunto quello di recuperare questi 15 testi teatrali perché si tratta di 15 testi teatrali che partono dal 66 e arrivano fino all'83 quindi fino a pochi mesi prima c'era un allestimento dell'ultima violenza, dell'ultimo testo proprio allo stabile di Catania per cercare appunto di dare il giusto valore culturale e artistico ad uno scrittore che si è occupato attraverso appunto la scrittura e degli argomenti che più gli stavano a cuore non solo attraverso il teatro ma anche attraverso i romanzi è stato uno sceneggiatore che ha vinto l'orso d'oro a Berlino nel 75 addirittura è stato anche un fervente e un appassionato pittore. Tutto questo lo vogliamo riportare in vita attraverso appunto questo lavoro che è per la prima volta uno studio sistematico sui testi di Giuseppe Fava si parte quindi in ordine cronologico dal 66 con Cronaca di un uomo che è un testo che peraltro vinse un premio prestigioso che è il Valle Corsi ed è importante anche dire che è stato davvero tanto rappresentato durante gli anni in cui Fava era in vita ha fatto grandi tournee, ha utilizzato degli attori un'operazione importante per ricordare Giuseppe Fava e per dare il giusto peso e il giusto valore a ciò che egli ha fatto in più alla sua scrittura giornalistica. E in particolare quindi per sottolineare anche il suo valore come autore teatrale nelle 15 opere teatrali che tu raccogli in questi tre volumi esiste un filo conduttore, un elemento che caratterizza il teatro di Fava visto nella sua complessità? Ma certamente la sua ricerca è volta all'uomo nel senso che l'interesse principale per Fava è non certo dare delle risposte a delle domande universali quanto analizzare, cercare di capire le motivazioni a causa delle quali o grazie alle quali l'uomo si comporta in un determinato modo e quindi all'interno di più contesti per quanto riguarda questo, quindi il leitmotiv del teatro di Fava è certamente l'uomo che poi si suddivide in una serie di personaggi straordinari che può essere il boss mafioso certamente ma anche il miserabile che viene costretto dalla vita a fare determinate azioni che non vorrebbe alla persona che magari connivente con certe situazioni mafiose legate al fatto che non vuole vedere, non può vedere l'omertà, la prostituzione tanti argomenti legati all'uomo in stili però completamente diversi nel senso che troveremo, la cosa importante che io stesso ho scoperto con grande meraviglia e con grande interesse è il fatto che il talento di Giuseppe Fava è anche un talento di carattere estetico nel senso che passa e già questi primi quattro testi lo dimostrano da uno stile all'altro usa la lingua siciliana come può usare l'italiano alto con una commissione di genere, quindi un plurilinguismo e un missilinguismo che è assolutamente straordinario e che fa parte proprio e insito del suo modo di scrivere per cui la varietà è molto importante c'è quattro testi e quindici testi tanto diversi non solo per gli argomenti per i contesti all'interno dei quali i personaggi si muovono ma anche come stile proprio di scrittura Dovessi suggerire ad un giovane che magari non conosce la figura di Pippo Fava ma non in maniera approfondita un punto di partenza per poter conoscere non solo lo scrittore, il giornalista, l'autore di teatro o di cinema ma anche l'uomo da dove gli suggeriresti di partire? Io direi di partire certamente dai suoi articoli giornalistici comunque perché come lui stesso diceva era appassionatamente giornalista cioè Giuseppe Fava è stato un grande giornalista e il giornalismo così come lui lo concepiva anche dal punto di vista proprio della scrittura del modo come buttava giù le pagine possono aiutare a capire come egli non fosse disponibile mai al compromesso alla parola cercata politicamente corretta ma danno solo la visione di un uomo che voleva raccontare la verità se c'è una parola che per Fava è stata importante fino alla fine è la ricerca della verità che non è una verità presuntuosa, la verità assoluta ma è la verità, nel senso l'onestà dell'essere umano cioè il comportamento dell'essere umano che deve essere per cui chi si avvicina a Giuseppe Fava può già scoprirlo attraverso i suoi articoli dei siciliani e ancora prima quelli che lui ha redatto nel giornale del sud e che poi lo hanno fatto allontanare dai vari editori per poi far partire quella grande esperienza tragica ma straordinaria dei siciliani e comunque il teatro di Fava è un'ottima lettura contemporanea è molto importante conoscerlo passando da una cosa all'altra sono tanti Fava diversi e al tempo stesso è un unico Fava Giuseppe Fava è un artista, lo chiamerei, un giornalista, un intellettuale che parla di tante cose, delle stesse cose in maniera completamente diversa quindi passando dal giornalismo al teatro, al romanzo in una maniera davvero come dire, con una semplicità che lascia essere fatti quindi è importante leggere questo libro e sarà spero importante poi andarlo a vedere perché poi l'idea finale di tutto questo sarà quello di vederlo rappresentato nuovamente perché merita e molto attuale e io credo che chi dovesse vederlo senza sapere dove siamo e quando l'abbiamo scritto si sorprenderebbe nel sapere che sono cose che sono state scritte 40 anni fa quindi grande autore che ha visto molto in avanti e al tempo stesso forse un'Italia che ha fatica ad andare avanti quindi c'è un incontro tra le due tendenze quindi vale la pena conoscerlo comunque nella sua totalità ci vorrà un po' di tempo per conoscerlo tutto ma io me lo auguro perché sarà una bella esperienza una bella esperienza e probabilmente anche una bella scoperta per chi fino adesso non ha mai conosciuto il teatro di Fava che da quello che ho capito negli anni di vita dell'autore era molto rappresentato anche mi dicevi prima presso il teatro stabile di Catania oggi sicuramente lo è meno sì, devo dire che nel trentennale proprio lo stabile di Catania ha fatto Femina Riddens che per la regia di Anfuso con Guia Ielo e Mico Magistro che sono altri due attori che hanno lavorato con Pippo Fava quando Pippo era ancora vivo e quindi comunque un interesse anche per il trentennale c'è stato e c'è sicuramente ma è molto minore rispetto a quello che si faceva durante gli anni 70 e oltretutto non era soltanto rappresentato in Sicilia o a Catania c'era un grande direttore all'epoca che ha permesso anche che un grande autore come Pippo Fava facesse i suoi passi avanti che era Mario Giusti è stato rappresentato in tutta Italia, è stato rappresentato ed è stato amato, apprezzato da tanti come detestato da altri, cioè come autore spaccava in due l'opinione pubblica spaccava in due anche i giornalisti che erano appunto suoi colleghi ma contro i quali non si scagliava voleva dire la sua, aveva un certo modo di fare giornalismo che non era certamente quello di andare a cercare lo scoop facile o non era un arrivismo per entrare nelle grazie del direttore e fare la carriera era prima di tutto un raccontare quello che è accaduto certamente e poi soffermarsi a capire perché è accaduto e questa è la grande lezione di giornalismo di Giuseppe Fava che è molto più raro di quello che in realtà dovrebbe essere e questa è la sua forma importante la rappresentazione di Pippo Fava in teatro è chiaro, il teatro va rappresentato il testo teatrale si deve trasformare in spettacolo per cui è una delle cose che cercheremo di fare noi riteniamo che ci saranno delle realtà teatrali e produttive che sicuramente apprezzeranno, al di là dei problemi attuali di difficoltà, insomma i teatri versano in cattive condizioni come tante altre realtà insomma il momento non è certamente dei migliori ma si spera che questa cosa si concluda al meglio e vale la pena fare certo una selezione sarà anche difficile perché tanti testi sarà anche difficile scegliere però ce ne sono alcuni che già questi quattro sarebbero straordinari oggi riportarli in scena perché insomma sono veramente molto molto attuali al di là di un aspetto strettamente professionale direi anche scientifico visto il tuo lavoro, il tuo approccio critico al teatro di Pippo Fava quanto ti ha coinvolto questo lavoro da un punto di vista personale ed emotivo? moltissimo moltissimo perché Pippo Fava per me io me lo ricordo da quando avevo 12-13 anni ad Augusta proprio si fece mia madre fu una delle promotrici di una mostra era allora professoressa in un liceo scientifico fecero questa mostra antimafia utilizzando proprio le fotografie di un libro di Giuseppe Fava che si intitolava Mafia negli anni, nell'83 siamo proprio nel mese prima di Natale quindi verso ottobre e novembre venne anche ad Augusta insomma i professori erano molto felici di questa sua presenza parlavo con i ragazzi eccetera io mi ricordo, ero ancora piccolo attraverso i racconti di mia madre di questa importante figura e mi ricordo anche quando mi disse me lo ricordo molto bene quando mi raccontò mi fece sapere che il giorno, quella sera prima era stato ucciso avevo allora 13 anni ed è una figura che appunto mi colpì molto questa sua fine non era la prima volta che vivendo in una realtà come quella di Sicilia insomma si ascolta la radio la televisione insomma altre volte eravamo stati testimoni di situazioni che accadevano a Catania o a Palermo eccetera ma il fatto che fosse stato così vicino a me anche se non lo ho voluto approfondirlo negli anni chiaramente maturando sono andato a cercare quello che in realtà finché poi non ho scoperto che c'era un grande teatro e sono stato contento perché sia il mio editore Labietti che è stato entusiasta diciamo che non ho faticato io pensavo di faticare molto di più ma in realtà sbagliavo nel senso che è stato ha accolto subito l'importanza l'importanza proprio dell'operazione l'importanza della persona e anche la famiglia Fava che insomma non finirò mai di ringraziare mi ha dato questo grande privilegio onore che mi ha naturalmente messo molto insomma mi ha impegnato tanto dal punto di vista emotivo certamente dal punto di vista anche diciamo pratico nel cercare tante cose che non che erano sparse c'è un archivio comunque che viene tenuto da Elena Fava la figlia di Giuseppe che è anche presidente della fondazione e che quindi mantiene la memoria del padre e anche la memoria del pensiero del padre quindi lavorando tanto con le scuole cercando appunto di diffondere il più possibile il messaggio di giustizia che suo padre ha portato avanti sino alle estreme conseguenze quindi essere a contatto con le cose che che egli ha scritto che ha toccato che ha corretto appenna tutte le itaglie eccetera è stato comunque anche quello una grande una grande emozione proprio avvicinarmi ai suoi dipinti a tutto quello che che è stato suo la scrivania dove ha lavorato in cui su cui magari sono nate appunto le idee degli articoli o dei testi teatrali insomma mi ha mi ha molto e ancora oggi continua non è è un lavoro che sta continuando con gli altri volumi quindi chissà cosa magari scopriremo di nuovo e di importante quando è prevista l'uscita dei prossimi volumi ma è questo appena uscito a luglio quindi diamo il tempo di vivere mentre nel frattempo lavoriamo su con con molta cura sugli altri volumi perché non è soltanto quello di stampare di portarli su un libro ma anche quelli di trascriverli di vedere quali sono le versioni che Fava non ha rimaneggiato prima del della messa in scena perché sappiamo poi che poi il passaggio dalla scrittura al testo alla messa in scena possono esserci stati dei tagli da regista quindi è un lavoro anche filologico di ricostruzione speriamo di nell'arco dei prossimi otto mesi comunque di far vedere il secondo volume e ovviamente il terzo sempre a una distanza tra qui e i prossimi due anni di farli di vederli tutti insieme nelle librerie insomma come opera omnia e aggiungendo anche quello che in realtà non è mai stato né messo in scena perché ci sono sei testi inediti il terzo volume vorremmo che fosse la raccolta dei testi inediti di Giuseppe Fava che però sono compiuti sarebbe si potrebbero benissimo allestire insomma non sono delle cose incompiute eccetera sono dei testi che non si ebbe forse il tempo di 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 mettere in scena o magari non erano stati scritti così per scriverli non lo sapremo mai forse qual è la motivazione per cui grazie mille a Massimiliano Spuriatti autore di A che serve essere vivi opera che raccoglie il teatro di Pippo Fava grazie grazie